Chi non ha giocato almeno una volta a Monopoli? Chi non ha acquistato case e alberghi? Questo mitico gioco nato negli Stati Uniti nel 1935 e poi diffusosi in tutto il mondo, tanto che ora è presente in 114 nazioni e pubblicato in ben 47 lingue. Ebbene, da oggi c'è un'edizione in più, Monopoli Fano, un'edizione tutta fanese realizzata da Spazio Connad, con riferimenti tutti i fanesi. La scatola riporta l'immagine della città della fortuna, le vie e le piazze sono quelle di Fano e i giocatori, seguendo le classiche regole del gioco, entrano nel vivo della cultura cittadina, scoprendo i luoghi simboli più suggestivi, dall'arco di Augusto, la chiesa di San Francesco, alla zona del porto, ai quartieri, ai palazzi più tipici. Ieri l'iniziativa è stata presentata dall'amministrazione comunale. È un bel modo per personalizzare sicuramente la città, è un bel omaggio alla città per evidenziarla anche nelle sue bellezze, ma anche tutta in quella che è una rete di, come dire, solidarietà, perché quello che si apprestano a fare gli imprenditori nel momento in cui collaborano al progetto è proprio anche di evidenziare una bella rete di città che noi abbiamo ed è fertile e crea non solo un gioco e quindi divertimento, ma sicuramente il modo migliore per promuovere la città nella sua bellezza. È un modo, questo anche per fare solidarietà appunto perché ricordiamo che una parte del devoluto verrà poi affidato ad un'associazione di riferimento che in questo momento dobbiamo individuare assieme ai partner, ma sicuramente è un modo per avvicinare anche tutto quello che è il territorio. È proprio nato per promuovere il territorio, per noi è fondamentale stare nel territorio, fare promozione al territorio, quindi non soltanto la città di Fano ma anche le imprese del territorio. È la prima città che viene fatta nelle Marche, quindi credo che per Fano sia motivo di orgoglio, sia, ma è motivo di orgoglio anche per noi e credo che sia motivo di orgoglio per tutto il territorio. Questa collaborazione con le aziende, con il comune abbiamo studiato questo monopoli di Fano. Ci sarà una giornata particolare per il lancio del gioco, vero? Allora, l'agio diciamo che dopo oggi la presentazione del progetto, da oggi pomeriggio sarà già in vendita nel nostro ipermercato. Però venerdì c'è un'iniziativa in galleria al Fano Center con un monopoli gigante di 6 metri per 6, quindi chi è che vuole può venire e può venire a provare questo gioco. a provare.